Ciao, sono Mika e questa è la mia prima volta. Sembra un dating app. Cos'è? Tinder? Grindr? Threesome? Qualcos'altro? Non so. Mi piacciono i cani? 69? Bene, swipe up o swipe left o right. Cazzo ne so io. Allora, ne ho avuto due, due delusioni grossi. La prima è quando siamo stati spostati dalla Francia all'Inghilterra. Ero molto giovane e siamo andati via perché la situazione con la mia famiglia era terribile e mio padre è stato preso in otaggio durante la prima guerra del Gulf in Kuwait. E' stato bloccato lì nell'ambasciata americana per nove mesi. Dunque, quando lui è tornato la nostra vita, invece di essere totalmente bella, è stata un po' ruminata. E dunque abbiamo perso tutto, ci siamo trasferiti a Londra e lì ho capito che la vita è una cosa delicata. Che tutto quello, anche quando sei giovane, tutto quello che tu prendi come delle cose che rimangono per sempre, infatti sono veramente temporanei. E questa cosa qua mi ha marcato per sempre. Ovviamente la vera prima delusione forte che ho sentito nella mia vita è la prima volta che il mio cuore è stato rotto. È lì. Da un momento, dal giorno prima, quando io pensavo che l'umanità fosse la cosa la più bella nell'universo e poi il giorno dopo ho capito che gli umani sono dei pezzi di merda. La prima volta che ho fatto l'amore è stato un disastro. Dopo tutto quello che è successo nella mia vita e anche tutte le belle storie di amore che ho avuto e anche tutte le belle esperienze sessuali che ho avuto nella mia vita, mi vergogno sempre e ho sempre dei flashback della prima volta che ho fatto l'amore. Tutto quello che poteva succedere è successo. E forse devo vedere un terapista, però forse non ne ho bisogno ancora più perché ne ho parlato oggi con voi. La prima canna che ho fumata è stata dato da un amico mio a scuola e posso dire che è stata un'esperienza proprio orribile perché non c'era solamente la marijuana pulita, ben curata dentro. Questo stronzo aveva messo qualcos'altro molto più forte. Volevo chiamare la pulizia, volevo chiamare l'ambulanza. Grazie a Dio che la mia sorella era lì e mi ha detto di stare zitto e di tranquillizzarmi è passato. Il primo disco che ho comprato? Cassette, caro. È stata una cassette. Sì, io sono generazione cassette e mini disc. Ma questa industria delle compagnie discografiche veramente sono dei stronzi spaziali perché hanno capito che prima abbiamo pagato per avere i dischi, ma i nostri genitori, in vinyl e poi in CD. E poi in cassette. E poi in CD ancora. Hanno deciso di venderci tutto su iTunes. Allora abbiamo comprato tutto di nuovo su iTunes e fra poco iTunes non esisterà più e sarà streaming e pagheremo ancora una volta in una maniera diversa anche se noi pensiamo che non stiamo pagando tanto. Alla fine stiamo pagando e paghiamo ancora una volta per la musica che abbiamo già pagato fra due generazioni quasi quattro cinque volte. La prima volta che mi sono ubriacato è stato con la mia amica Emily a Londra. È stato Halloween e mi sono ubriacato con un mix di Jack Daniels e Guinness. Non tocco uno neanche l'altro mai più nella mia vita. Quando io penso a queste due cose Jack Daniels e Guinness vedo solamente una zucca, Halloween, l'arancio e un cappello di streghetta. La prima cosa che ho comprato con i soldi guadagnati nella musica è stata una cucina. Eh no! È stato un abito di un designer che si chiama Chris Van Asch. Io ho sempre sognato perché vengo da una famiglia dove il colore è un po' il nostro nero. Se tu porti nero c'è veramente qualcosa che non va perché anche ai funerali nella mia famiglia non si porta mai il nero. Dopo tutta questa saturazione di colore nei vestiti per tutta la mia vita quando ho avuto i miei soldi ho voluto comprare un abito nero. Sono andato e ho comprato un abito di Chris Van Asch. E poi ho comprato una cucina perché ho voluto cucinare come fanno i ricchi nei film. Quella cucina lì è stata una dilusione. Si è rotto tutto velocemente. Il primo strumento che ho suonato è stato un violino. Avevo tre anni, quattro anni. È stato un regalo per il 25 di dicembre, un regalo di Natale. La mattina del 26 di Natale io sperimentavo così tanto con tutti i rumori che poteva fare questo strumento spaziale che era questa nuova scoperta del violino che alla fine l'ho spezzato in 50.000 pezzi. Ero così vergognoso anche a quattro anni che ho cercato di rimetterlo a posto con scotch. Quando i miei genitori hanno visto questo hanno deciso che il violino non era per me. Sono rimasto sul pianoforte dopo. Grazie a tutti.